Ciao a tutti ragazzi siamo a Varsavia alle finali della Wargaming.net League 2014 che sostanzialmente sono le finali mondiali del campionato mondiale di World of Tanks Wargaming.net azienda ormai famosissima azienda Bielorussia ha all'attivo due giochi uno è World of Tanks l'altro è World of Warpens grande assente da questa manifestazione ci hanno detto perché il gioco è uscito solo quattro mesi fa quindi è troppo presto per organizzare un campionato mondiale in realtà crediamo che sia una scelta un po' politica perché il gioco ha ancora alcuni difettucci che ci auguriamo verranno risolti nei prossimi mesi invece quello che sembra davvero un gioco perfetto è World of Tanks questa mattina Victor Kisli l'amministratore legato di questa società bielorussa ci ha presentato alcuni dati e ha parlato pensate di 80 milioni di iscritti che è veramente un numero spaventoso 80 milioni di giocatori a questo titolo dedicato ai carri armati la league come è organizzata? praticamente questi 80 milioni di giocatori possono mettere su delle squadre e partecipare a una lega bronzo poi a una lega argento e alla fine alla lega gold dalla lega gold vengono selezionati 14 team i quali accedono a questa finale il premio in paglio è molto ambito il monte premi totale di 300 mila dollari quindi insomma ci sono dei bei soldi in paglio e come sempre Wargaming ha fatto le cose davvero in grande un evento splendido, un sacco di gente, sono stati invitati tantissimi giornalisti più di 100 giornalisti da tantissimi paesi le squadre arrivano da mezzo mondo abbiamo incontrato una squadra del sud-est asiatico abbiamo incontrato delle squadre europee, americane ovviamente non mancano le squadre dei paesi russi sono gettonatissime le squadre russe anche la squadra polacca locale i lemmings sono gettonatissimi qui c'è un tifo pazzesco ed è veramente una bella atmosfera perché qui comunque c'è molto sport effettivamente Wargaming sta cercando di trasformare il suo titolo in uno sport in un cosiddetto e-sports e ci sta riuscendo perché veramente qua c'è molta sportività ci sono i giudici ci sono degli atleti professionisti che sono qui apposta per vincere il premio e si vede che è gente che gioca tantissimo uno degli atleti che abbiamo incontrato qui alla manifestazione ha all'attivo più di 14.000 partite personali su World of Tanks quindi è gente che veramente gioca tantissimo e gioca di professione ovviamente l'evento è spalmato su più giornate oggi ci sono state le eliminazioni domani ci saranno le fasi le semifinali insomma le fasi che porteranno alla finale e il gran giorno della finale è domenica domenica le ultime due squadre rimaste in gara si sfideranno per vincere l'ambito premio che include anche un trofeo abbastanza particolare un monolite di alluminio dal peso di 17 kg bellissimo però è così pesante che non potranno portarlo a casa hanno detto che il premio girerà nelle sedi di Wargaming un po' come si fa con la Coppa del Mondo di Calcio quindi insomma potranno godersi il premio per qualche ora poi dovranno restituirlo ma è veramente un premio impressionante proprio da vedere un blocco di alluminio gigantesco tornando all'argomento eSports nella conferenza che ha inaugurato questo evento si è parlato proprio degli eSports e si è parlato di come si fa un gioco che diventa un eSports e la filosofia di Wargaming è davvero molto interessante perché Wargaming non ha mai cercato di creare un gioco per gli eSports World of Tanks non è un gioco plasmato per essere un eSports lo è diventato grazie alla community lo è diventato grazie alla base di giocatori quindi sostanzialmente quello che è stato detto è che secondo Wargaming un gioco diventa eSports nel momento in cui comincia a ricalcare le caratteristiche di uno sport comune quindi tante persone che lo praticano e qui parliamo di 80 milioni di persone delle regole chiare le regole di World of Tanks sono cristalline e il bilanciamento lo sport deve essere bilanciato quindi le squadre devono gareggiare ad armi pari e questo è uno degli obiettivi più importanti dei sviluppatori di World of Tanks che fanno molta leva sulla community la quale fornisce dei feedback per migliorare il gioco di giorno in giorno e la cosa sembra funzionare molto bene se siamo arrivati fin qui insomma abbiamo visto dei match che si sono giocati all'ultimo secondo quindi insomma davvero il gioco è fatto molto bene quindi riusciamo davvero a comprendere le ragioni del successo di World of Tanks bene ho concluso con questo aggiornamento abbastanza lungo dalla wargaming.net league dalle finali della wargaming.net league l'appuntamento con gli aggiornamenti da questo evento sportivo arriveranno nei prossimi giorni su Spazio Games quindi vi consiglio di restare sintonizzati sul nostro sito alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti